Sono Adriano Amione, sono il Presidente della Società Mutua Piemonte, già Società Mutua Piemonte che nel 1986 nasce e cresce insieme alle società di mutuo soccorso di questo territorio che hanno costituito la Società Mutua Piemonte e si occupa in principal modo di assistenza sanitaria domiciliare e integrazione sanitaria per rimborsi e visite mediche per i propri soci e per i soci delle società aderenti, che sono le società di questo territorio. Società Mutua Piemonte nasce nel 1986 tra dieci delle società di mutuo soccorso che su questo territorio esistono. Nasce in particolare perché molti dei soci delle società sparse su questo territorio non avevano la possibilità di avere l'assistenza domiciliare, in particolare in caso di cure, di missione dell'ospedale o quant'altro. L'assistenza ospedaliera era una delle cose che facevamo maggiormente prima del Covid perché durante il periodo del Covid non ci hanno permesso più di andare in ospedale a fare l'assistenza domiciliare e abbiamo dovuto modificare questa assistenza diminuendo le ore di assistenza in ospedale, quindi l'assistenza ospedaliera e aumentando considerevolmente le ore di assistenza domiciliare, quindi le ore che si facevano a casa. Sostanzialmente la cosa che è stata modificata, questa assistenza in particolare, è stata modificata anche dando un'integrazione a coloro che nel frattempo hanno raggiunto un'invalidità che gli permette di avere una sorta di contributo per l'invalidità, quindi per sostenere le spese di un eventuale badante piuttosto che di ausili o di ristrutturazione di casa è una cosa legata alle difficoltà che nel frattempo sono nate per molti dei nostri soci che inizialmente, quindi ricordo che siamo nati nel 1996, erano più giovani e adesso incominciano ad avere una certa età e quindi per questa ragione più e più volte ci troviamo di fronte a situazioni che hanno bisogno di integrazione non solo dal punto di vista delle visite mediche ma anche di integrazione dal punto di vista del sostegno alla non autosufficienza. La società Mutuo Piemonte nel frattempo si è chiaramente evoluta e oltre ad aver partecipato a un bando regionale sul welfare di territorio, quindi la rete che prima era costituita dalla società Mutuo Soccorso in questo momento è costituita da gran parte delle associazioni sia imprenditoriali, sia sindacali, sia di rappresentanza che su questo territorio esistono. Abbiamo cambiato nome da società Mutuo Piemonte a società Mutuo Piemonte perché la nostra area di intervento è anche variata, nel senso che in questo momento molte delle nostre attività si svolgono anche al di fuori del Pino Norese. Non per niente una delle attività che abbiamo incrementato e implementato è stata l'attività della gestione del welfare contrattuale, quindi tutte le aziende che in qualche modo necessitano o hanno bisogno di gestire, perché il contratto lo prevede, e il welfare contrattuale, siano esse profit o siano esse no profit, possono essere gestiti attraverso un fondo sanitario per cui noi abbiamo l'autorizzazione del Ministero della Sanità per poterlo gestire. Per esempio la cooperativa Coesa, che è una cooperativa qua di Pinerolo, ha la gestione del fondo welfare contrattuale, perché sul contratto collettivo nazionale di lavoro ogni cooperativa sociale nel particolare deve dedicare una parte del proprio reddito al welfare aziendale e sanitario in particolare per i propri dipendenti e noi gestiamo questa cosa per conto della cooperativa Coesa. La cosa consiste nel fatto che se un dipendente deve andare a fare una visita, noi gli rimborsiamo il ticket di questa visita, per esempio, piuttosto che indirizzarlo in uno dei centri convenzionati. Quando parlo di centri convenzionati vi dico anche che società venuta a Piemonte nell'interno di un'organizzazione più vasta che si chiama Consorzio Musa, cioè Consorzio Mutuo e Sanitario, che è un consorzio nazionale, è il referente per la stipula delle convenzioni per tutto il Piemonte. Quindi, qualsiasi momento ci fosse uno studio che intende convenzionarsi, siamo noi coloro che andranno a convenzionarlo. Per conto anche delle altre mutue che possono essere lombarde, piuttosto che emiliane, piuttosto che toscane o della Sicilia. Questo è uno dei compiti fondamentali che, al di fuori dell'attività che noi svolgiamo, appunto, di assistenza domiciliare, ospedaliera, integrazione sanitaria e gestione di welfare addendale, facciamo in più. In tutto questo si aggiunge una delle attività che in questo momento ci sta occupando particolarmente, che è proprio quella del welfare territoriale. Il welfare territoriale, sulla base di quello che è stato il programma della regione Piemonte, che si chiamava Wicker, welfare, cantiere regionale, noi eravamo stati incaricati di disseminare il welfare addendale in questo territorio. Questo territorio che significava Pinarolese e Valli, quindi Val Pellis, Val Chisone, Val Germanasca. Ci siamo accorti di una cosa, però, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di attività, ci siamo accorti che non ci sono aziende così grosse, per meglio dire. Ci sono alcune aziende che sono grosse, ma che già gestiscono il welfare addendale per conto proprio. Quello che noi dovevamo cominciare a implementare in questo territorio, invece, era il rapporto con tutte quelle piccole, piccolissime aziende che non potevano gestire il welfare addendale nel loro interno e quindi è necessario entrare in un più vasto welfare, che è il welfare di territorio, perché ognuno possa apportare le proprie capacità, competenze e relazioni e possa ricevere da tutto il resto del territorio competenze e relazioni. La società Mutuo Piemonte nasce dall'esigenza delle altre società di mutuo soccorso del Pienolese che non riuscivano a dare questa cosa, quindi insieme hanno messo le risorse per fare in modo che si potesse pagare una persona in quel momento che gestisse la possibilità di dare assistenza e integrazione sanitaria per tutti i soci delle società di questo territorio. 200, poi 500, poi 1000 per arrivare ai 5000 attuali. Noi abbiamo un consiglio di amministrazione composto da 13 persone che sono tutte volontarie, compreso il Presidente, che l'unica cosa che prende è un rimborso spesa quando si muove in giro per l'Italia, perché oltretutto noi siamo comunque rappresentativi nell'interno della Federazione Nazionale, perché siamo in Presidenza Nazionale della Federazione, siamo rappresentativi nel coordinamento piemontese, perché siamo... nella mia persona c'è la Vicepresidenza del coordinamento regionale, siamo in diversi consigli di amministrazione, tra cui quello del Consorzio Musa, che è il Consorzio delle Mutue Sanitarie, e una Cassa Interazionale che ha sede in Lombardia. Una delle aspirazioni è che prima o poi questa federazione, una federazione composita, perché è composta sia dalla Società di Mutuo Soccorso Storiche, sia da società di Mutuo Sanitarie come noi, prima o poi riesca a diventare veramente integrata e sinergica tra loro, perché possa andare a fare. In questo momento noi abbiamo tre dipendenti che si occupano di tre ambiti diversi. Uno che si occupa esplicitamente di riborsi. Chiunque abbia bisogno di un riborso si rivolge a quella mail, quel numero di telefono. Uno che si rivolge esplicitamente alla parte amministrazione, quindi tutta la parte relativa all'amministrazione e alla gestione del fondo sanitario che abbiamo con il Ministero della Sanità. E un'altra che si occupa di progettazione e gestione commerciale della nostra attività. La progettazione sta diventando sempre più importante, perché ormai continuiamo a vincere bandi sia con le fondazioni di origine bancaria, sia con la Regione, sia con altre ASL, perché uno dei rapporti importanti che abbiamo in questo momento è con le ASL, perché dobbiamo essere di integrazione alle ASL e con loro cerchiamo di capire dove possiamo essere. L'area di Piemonte è una struttura complessa, è una struttura complessa indubbiamente. Per fortuna abbiamo tre diverse aree di riferimento che sono l'area di rimborsi, l'area di amministrazione e l'area di progetti. Tutti e tre sono coordinati dalla Presidenza, quindi da me, ma sostanzialmente il lavoro importante è quello di creare le relazioni di rete, perché noi abbiamo l'ambizione di diventare un nodo della rete del Pinerolese in cui noi risiediamo come sede, ma soprattutto per le ASL, per i servizi sociali che su questi territori ci sono, per i sindacati, perché anche i sindacati sono molto interessati a sviluppare cose di questo genere. Non per niente abbiamo fatto convenzioni con la Federazione Nazionale dei Pensionati della CISL, piuttosto che la Federazione della Scuola, sempre della CISL. Stiamo per chiudere la convenzione con i pensionati della CGL, abbiamo chiuso la convenzione con Hauser, perché i trasporti sono un'altra delle evidenze che vengono fuori. Quindi Hauser, che fa quello specificatamente, che è una branchia della CGL, ci aiuta a fare i trasporti, a portare in giro tutti i nostri soci. Le sentinelle sono tutte le società di mutuo soccorso, non per niente apparteniamo al coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso. Dal coordinamento regionale delle società di mutuo soccorso noi percepiamo quelli che sono i bisogni, considerando il fatto che i bisogni non sono uguali tra cuneese, regalese e saluzzese, già solo se parliamo di zone diverse del cuneese, già sono evidenze diverse. Ma le pinolese, le attività che noi andiamo a intercettare, sono di un certo tipo e stiamo parlando, per esempio, della stessa ASL che è anche in Val Susa. Ma in Val Susa le necessità sono diverse che nelle valli olimpiche. Il nostro lavoro è esplicitamente di ascolto. Nel momento in cui abbiamo ascoltato e capito com'è questo territorio, quando lavoreremo e stiamo già lavorando sulla piattaforma di welfare territoriale che nasce appunto dal progetto We Care, un welfare cantiere regionale della regione Piemonte, la piattaforma di welfare territoriale sarà esplicitamente riferita al territorio di riferimento. Dopo aver ascoltato il territorio, la piattaforma servirà a quel territorio. Potrà essere portato in altri territori, ma non avrà mai le stesse caratteristiche di quello che è il territorio su cui è nata. In questo caso va a Val Susa, non tanto al Pineronese. Il territorio di Piemonte non ha un proprio ambulatorio, si usufruisce degli ambulatori sociali, tipo quello della SOMS di Pinerono dove siamo ospiti, però è stato fautore di messa in rete di tutti gli ambulatori del Piemonte. Abbiamo fatto una riunione preliminare per capire anche qual è la realtà, che ne sono una trentina in giro per tutto il Piemonte di ambulatori che si occupano di diverse tipologie. Quindi chiaramente facciamo l'esempio, quello di Borgo Manero ha il cardiologo molto bravo, quello di Torino, che ne sono tre o quattro a Torino, e si occupano più della parte odontoiatrica. Qui i volontari che ci sono qua sono dal cardiologo all'oculista. Questa roba di messa in rete è necessaria, perché se non si mettono in rete tutte le cose non siamo in grado di capire la potenzialità che abbiamo in mano. La potenzialità nasce dalla relazione tra tutte queste cose. Questa trentina di ambulatori sociali, molti non sono di società di mutuo soccorso. Le società di mutuo soccorso ce ne sono tre forse, in tutto il Piemonte. Mentre la rete di appartenenza di tutte queste qui può essere Hauser, può essere l'associazione Pincopalla, può essere l'Arci, può essere l'associazione nata da una serie di amici, nata da una serie di medici, nata all'interno di qualche ONG, perché alcune di queste sono delle ONG che hanno creato il loro ambulatorio. Mi viene in mente i Sermiga, il proprio ambulatorio, CCM, che è una ONG, ha il proprio ambulatorio. Medici di Sermiga Frontiera e Merges hanno il proprio ambulatorio. Alcune cooperative sociali hanno fondato un ambulatorio di per se stesso, quindi è veramente vario il mondo degli ambulatori sociali. Tra le società di mutuo soccorso poche hanno la pregevole iniziativa che la società di mutuo soccorso di Pinerolo ha fatto. Tutte realtà del terzo settore, assolutamente tutte realtà del terzo settore, non ci sono privati, perché i privati hanno un mico scopo, il profitto, e quindi non è esattamente ciò che noi andiamo a perseguire. Non per niente una delle cose che noi perseguiamo con forza è l'articolo 32 della Costituzione. La sanità è un diritto pubblico di tutti. La società di mutuo a Piemonte, come tutte le società di mutuo soccorso, nascono sostanzialmente sulla solidarietà e sul mutuo aiuto. È abbastanza difficile non pensare che le società di mutuo soccorso questa roba la perseguono e continuino a perseguirla. Nonostante noi siamo una società strutturata che se fossimo un'azienda privata faremmo anche dei buoni utili, ma qualsiasi utile che venga fatto viene messo o a riserva o a disposizione dei soci, perché se i soci destinano una parte del loro reddito ha una contribuzione, un'assistenza a una società di mutuo soccorso, questo deve ritornargli in termini di servizi, in termini di assistenti, in termini di attività sul territorio che in qualche modo contribuiscono alla costruzione del bene comune del territorio in cui queste cose vengono fatte. Non per niente, noi invece di fare il bilancio sociale abbiamo deciso di fare il bilancio del bene comune, che è una delle possibilità per fare il bilancio sociale. Noi siamo obbligati a fare il bilancio sociale e per questa ragione abbiamo deciso di farlo come bilancio del bene comune. Ma bilancio del bene comune per noi vuol dire avere rapporti con tutti i portatori di interesse del territorio, da quelli interni, cioè il nostro consiglio di amministrazione, i nostri dipendenti, i nostri soci stessi e tutti i portatori di interessi esterni, cioè tutti quei soggetti che in qualche modo compongono quello che per noi è la costruzione di quel welfare territoriale che stiamo sognando, cioè sindacati, enti di rappresentanza, cooperative sociali, agricoltori, tutti quei soggetti che in qualche modo ci hanno aiutato a costruire quello che è l'idea di piattaforma, di welfare che noi stiamo andando a realizzare in questo momento in Val Susa. Perché la solidarietà sarà sempre e comunque necessaria, ma soprattutto è la nostra sanità pubblica dopo la modifica del capo quinto della Costituzione, che non è più nazionale, ma è regionale, ha subito delle variazioni importanti, nel senso che la sanità pubblica ormai sta andando verso una deriva che noi preferiremmo non accadesse, ma purtroppo ci sta andando sempre di più verso il privato. La sanità piemontese, in particolare, sta seguendo molto la sanità lombarda e la sanità veneta e per questa ragione noi continuiamo a pensare di lavorare in integrazione con le ASL per fare in modo che la sanità privata sia una sanità vicina comunque alla persona e vicina ai bisogni di cura che le persone necessitano.